Approvato il rendiconto 2018 dal Consiglio Comunale di Baveno, 1.200.000 euro di avanzo di amministrazione, di cui 283.000 applicati per nuovi investimenti grazie ad una variazione di bilancio. Tra gli investimenti più cospicui dei prossimi mesi da segnalare i 200.000 euro, 50.000 dei quali provenienti dalla Regione Piemonte, per la messa in sicurezza del torrente Selva Spessa. Il progetto esecutivo sarà ultimato a breve e poi si potrà procedere con i lavori. L'intervento è stato reso necessario dopo un'attenta analisi svolta negli scorsi mesi durante la pulizia del letto del torrente che si immette direttamente nel Lago Maggiore. È stato annunciato inoltre che il prossimo 6 maggio partiranno i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Gavazzeni, arteria che conduce verso la stazione ferroviaria. Ha vinto la gara d'appalto un'azienda di Sondro con un ribasso del 31%. L'assessorato ai lavori pubblici sta valutando se interrompere il cantiere nei mesi di luglio e agosto per evitare troppi disagi in città. Proseguiranno nelle prossime settimane gli interventi di riqualificazione di Piazza Dante, prevista una maggiore entrata dalla tassa di soggiorno pari a 35.000 euro, da 600.000 a 635.000 euro. Inoltre, nemmeno nel 2018 è cresciuto l'indebitamento dell'ente, non essendo stati accesi nuovi mutui.